Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel disordine a voi ben conosciuto della mia libreria. Allora, questa sera andiamo a toccare un argomento piuttosto delicato, piuttosto spinoso. Perché? 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 Perché andiamo a toccare un mito della Seconda Guerra Mondiale come Erwin Huygen-Johannes Rommel, la volpe del deserto, ed il suo complesso, complicato, tormentato e conflittuale rapporto con l'alleato italiano nel teatro dell'Africa settentrionale. Allora, mettiamola così. Rommel è un mito assoluto e indiscutibile della Seconda Guerra Mondiale. Per tanti, va bene? Ma, 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 è anche un personaggio che ha luci e ombre. Se cercate nella timeline di questo canale, troverete, troverete dei video in cui ho recensito le biografie di Rommel. Una, quella più nota, quella scritta negli anni 50 da Desmond Young, che, oggettivamente, è poco più che un santino geografico. E l'altra, quella scritta da David Fraser, intitolata, intitolata, Rommel, l'ambiguità di un soldato, che è, secondo me, una delle migliori scritte sulla figura della volpe del deserto. Inoltre, 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 c'è anche da dire una cosa. Allora, mettiamola così. Rommel, Rommel fu un grande condottiero, fu un grande generale. A livello tattico, a livello tattico, e rubo le parole all'amico James Worspite, come tattico, a livello di tattica, Rommel aveva veramente poco o nulla da invediare a gente come Annibale o Alessandro Magno. Rommel era un genio assoluto della tattica e della guerra di movimento. Niente da dire, niente da fare. Ma, 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 aveva un enorme problema. La sua totale, assoluta e completa mancanza di visione strategica. La sua mancanza, la sua spregiudicatezza e il suo avventurismo si sposavano ad una catastrofica incapacità di guardare, come dire, oltre la collina. Rommel leggeva meravigliosamente bene il campo di battaglia che aveva davanti. Rommel era un genio assoluto della tattica, ma, ma, non era assolutamente in grado di capire qualche cosa di strategia o, peggio ancora, di logistica. Non sono io che lo dico. Ne parla la stessa carriera del maresciallo, ne parla la sua stessa vicenda militare. Rommel, quando si trattava di strategia, non ne capiva assolutamente niente. Dispiace toccare un mito assoluto della Seconda Guerra Mondiale, ma è così. Occorre anche ricordare, allora, piccolo inciso, uno dei primi libri che ho recensito per questo canale si intitolava Il tradimento tedesco, scritto dallo storico e giornalista tedesco Erich Kübi. Va bene? Nel tradimento tedesco, Kübi ha per Rommel parole che definire di fuoco è poco. Lo definisce come uno spregiudicato, come un avventuriero, come un uomo ambizioso e che sacrificò tutto sull'altare dell'ambizione e dell'opportunismo. Insomma, un ritratto fatto da un tedesco di Rommel, decisamente molto lontano dai santini agiografici a cui tanta gente vuole credere con forza. Ok? Rommel non era un santo. Rommel non era estraneo ai meccanismi del partito nazista. Ricordiamocelo. Tanta gente dice che Rommel non era nazista. Ho detto va bene. Allora perché fu comandante della scorta personale di Hitler? Perché fu elevato al grado di generale dopo una vita come colonnello? Allora, si sa bene che Hitler odiava e detestava la casta militare prussiana. Ok? E aveva bisogno di un generale che non fosse prussiano. E chi meglio di Rommel oscuro colonnello dalla carriera quantomeno stagnante che aveva saputo come si suol dire intortarselo per bene nel periodo in cui era in servizio come comandante della scorta personale del Führer? Questo fece Rommel seppe sfruttare l'occasione con il suo grande opportunismo con la sua grande capacità di ottenere l'ultima parola quando si trattava di parlare con il Führer e il Führer era sempre uno parole dello stesso Rommel che dava sempre ragione all'ultimo che apriva bocca. Allora dicevo Rommel era molto lontano dal sant'uomo che in tanti lo dipingono. Ripeto un uomo spregiudicato cinico ambizioso un avventuriero Eric Küby lo definisce un avventuriero senza scrupoli e non ha neanche tutti i torti un giudizio estremamente severo verissimo ma ma un giudizio che se analizzato con la dovuta attenzione scoprirete che non è poi molto distante dal vero. Ripeto non parliamo della biografia di Desmond Young che è poco più di un santino geografico perché Young quando poté studiare le carte personali della Volpe del Deserto la vedova la signora Lucie Marie Mollin vedova Rommel diede a Young le carte personali del maresciallo però con la richiesta di come dire avere un occhio di riguardo per l'illustre scomparso. Ok? Quindi Young prese in parola la signora Lucie Marie e tratteggiò della Volpe del Deserto questo aulico ritratto che tutti conoscono quello del Cavaliere senza macchia e senza paura tralasciandone i gravi difetti ripeto Rommel assoluto genio e maestro della tattica Annibale Scipione Africano Alessandro Magno Giulio Cesare avevano erano insomma Rommel era alla loro pari erano quelli i modelli a cui si ispirava Rommel la tattica maestri di grandi maestri di tattica e Rommel era un tattico straordinario il miglior tattico della seconda guerra mondiale probabilmente il problema era sempre il solito la sua assoluta mancanza di visione strategica la sua incapacità di capire l'importanza della logistica il suo non voler capire l'importanza della logistica in guerra e ce ne siamo manamente accorti a El Alamein al posto di dedicarsi all'attacco a Malta no si decolla si parte verso l'attacco verso El Alamein verso il confine egiziano per conquistare Alessandria con cosa? con mezzi scarsi con armamenti malandati con una catena logistica debole allungata e debole con il collo estremamente tirato non me lo sono certo inventato io basta guardarsi un cazzo di cartina geografica e basta semplicemente leggersi qualche libro che parla di come l'armata italo-tedesca arrivò ad El Alamein e in che condizioni costretta a combattere dall'avventurismo di Rommel come un cane alla catena perché quello dovettero fare gli italo-tedeschi a El Alamein combattere come cani alla catena a causa della mancanza di mezzi di rifornimenti che erano impossibili da far arrivare perché la mancata conquista di Malta che ebbe la sua importanza nel 1942 chiedere alla Folgore invece di essere lanciati su Malta mandati a morire come fanteria d'arresto in mezzo alle sabbie del deserto come disse Paolo Cacciadominioni in Italia evidentemente amiamo sciacquare i pavimenti con l'acqua di Colonia o pulirci i cessi insomma fa leggermente incazzare la cosa se uno ci pensa Rommel 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 se uno analizza con onestà e con diciamo mente aperta quello che accadde durante la campagna durante le campagne militari tra il 1940 e il 1943 in Africa ci si accorge che i tanto celebrati tedeschi dell'Africa Corps spesso e volentieri ebbero le natiche salvate dai loro scalcagnati alleati italiani ho già raccontato della storia di Crusader dove un poco brillante generale italiano il generale Gastone Gambara che oggettivamente non è che fosse una cima di sua spontanea volontà dopo aver ricevuto i rapporti delle ricognizioni e i rapporti dell'intelligence decise di sua spontanea volontà di mettere la divisione corazzata a riete sulla difensiva e questo fu quello che fermò gli inglesi l'attacco degli inglesi due giorni dopo con Rommel idiota che si chiedeva perché gli italiani non attaccano semplicemente perché gli italiani brutto deficiente di uno svevo del cazzo stai dicendo che gli italiani non sai dove sono ma si sapeva dove erano gli italiani stavano combattendo contro gli inglesi parando il culo ai tedeschi ma ahimè questo qui spesso e volentieri gli estimatori della volpe del deserto se ne dimenticano e c'è anche da dire una cosa il contraltare il superiore teorico perdonate il gesto ma teorico tra virgolette superiore di Rommel il generale Ettore Bastico allora Rommel durante la guerra nel deserto fece sempre di testa sua sempre fece sempre quello che cazzo gli pareva a volte ebbe pure ragione a volte ma col senno di poi si scopre che il suo contraltare italiano il comandante supremo e formale superiore di Rommel in Africa il generale Ettore Bastico si scopre che il tanto denigrato bombastico come lo chiamava la volpe era in realtà un generale molto meno scarso di quello che si vuol credere era un uomo dal carattere duro e deciso era un uomo che non si vergognava di litigare ferocemente con Rommel e con i suoi ufficiali era un uomo che non si vergognava di contraddire pubblicamente la volpe del deserto avendo spesso anche ragione vedi il caso Malta vedi il caso Tobruk vedi il caso El Alamein Bastico aveva detto che sarebbe finita male e che Rommel doveva fermarsi a Tobruk e conquistare Malta ma non ci fu niente da fare forte della sua promozione a Fell Maresciallo forte del suo appoggio presso il Führer Rommel si lanciò verso El Alamein e andò a sbattere clamorosamente il muso contro le postazioni difensive dell'ottava armata perché la sua logistica era collassata la sua logistica non riusciva più a rifornire le truppe in prima linea perché la presenza di Malta anche ma anche e soprattutto la scarsissima capacità ricettiva che avevano i porti libici inutile mandare tante navi se poi i porti di Tobruk e Tripoli non riuscivano fisicamente a scaricare le navi perché erano saturi e molti mercantili tornarono indietro con anche due terzi del carico che non erano riusciti a consegnare poi dopo ci si mise anche Cavallero che garantì rifornimenti ma quello è un altro discorso il rapporto tra il generale Ettore Bastico e Rommel andrebbe studiato molto 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 bene per capire quali furono le dinamiche tra l'esercito italiano e l'Africa Corps per capire cioè se si studia bene il rapporto tra Bastico e Rommel si capisce che Bastico pur non essendo un genio militare conosce il suo mestiere di comandante e di soldato conosce il valore della logistica la vera regina delle battaglie conosce i limiti Bastico conosce dimostra nei suoi contrasti con Rommel dimostra di conoscere i limiti della macchina bellica dell'Africa Corps e del regio esercito italiano dimostra di conoscere che cosa eravamo in grado di fare e che cosa non dovevamo neanche azzardarci a pensare è ebbene sì un denigrato generale italiano che dà lezioni di strategia alla tanto celebrata volpe del deserto con i fatti che alla fine gli diedero ragione cioè alla fine i fatti della guerra di Libia hanno dato ragione alla concezione di Bastico perché Bastico pur non essendo un genio non era così male come veniva come è stato spesso dipinto anzi era un militare duro e severo era un uomo capace era un uomo che era in grado di tenere testa fisicamente a uno come Rommel abituato sempre a farsi i cazzi propri e a fare riferimento solo e soltanto e solamente a chi ad Adolfo in Germania degli altri chi se ne frega prendiamo per esempio tanto per dirne una la sua rivalità con la rivalità di Rommel con Kesselring Kesselring che fu nonostante i suoi crimini di guerra in Italia Kesselring fu indubbiamente uno dei migliori generali dell'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale e Kesselring che non era l'ultimo arrivato ricordiamocelo spesso si trovò in pieno accordo cioè si trovò pienamente d'accordo con Bastico nel definire folle le idee di avanzare fino ad Alessandria di Rommel perché non c'era la logistica perché i collegamenti si sarebbero allungati troppo perché ci saremmo trovati di fronte italiani e tedeschi si sarebbero trovati di fronte un esercito inglese in prossimità delle sue basi che si stava ben addestrando ben equipaggiando e soprattutto era fresco e riposato che in battaglia questo conta tantissimo Rommel non ci badò mai Bastico ci badava ripeto se si studia un attimo la storia dei contrasti feroci violenti e pesanti pesanti tra Ettore Bastico e Erwin Rommel ci si accorgerà che spesso e volentieri era l'anziano generale italiano ad avere ragione sulla più giovane e più brillante e più celebrata volpe del deserto perché Bastico era uno che aveva passato tutta la vita sotto le armi conosceva il detto che l'esercito marcia sul suo stomaco conosceva il valore della logistica e dei rifornimenti e conosceva i limiti della nostra disastrosa logistica e dei nostri disastrosi e sempre più scarsi rifornimenti Bastico c'era arrivato Rommel no ebbene sì la volpe del deserto la volpe del deserto Ael Alamein si fregò con le mani sue accettando di affrontare ripeto combattendo come un cane alla catena una ottava armata una ottava armata britannica in piena forma in ottimamente addestrata ottimamente equipaggiata e dannatamente determinata a suonarle una volta per tutte ai crucchi e agli spaghetti eh e questo Ael Alamein fecero ricordiamoci anche una cosa però Bastico lo aveva previsto che Rommel si sarebbe fottuto con le sue mani Ael Alamein ma Rommel vuole fare di testa sua ci sono le parole ci sono le parole di Cavallero altro bel elemento ma che è un testimone utile in questo caso sentite un po' cosa dice la fonte è il capitolo dedicato a Bastico di questo libro i generali di Mussolini del professor Giovanni Cicini lettura che vi consiglio è un libro che ho recensito l'anno scorso allora sentite qua allora nonostante allora da Roma si chiedeva a oltranza la difesa della Libia ma il ripiegamento divenne ritirata quindi per tutto il resto dell'anno continuarono le frizioni tra Bombastico il famoso soprannome del generale Bastico e la Volpe del Deserto a proposito della strategia contenitiva il tedesco non si creò scrupolo come d'abitudine a rivolgersi direttamente a Hitler pur di trovare una sponda alle sue intuizioni brillanti ma molto discutibili nonostante Berlino non gradisse affatto l'idea di lasciare campo libero agli inglesi e di procedere ad una difesa arretrata in Tunisia alla fine questo fu l'esito della campagna Bastico al limite della sopportazione minacciò di voler essere esonerato dal comando ma alla fine continuò ad accettare l'eccessiva e a volte suicida intraprendenza del suo antagonista Rommel le amare considerazioni di Bastico sulla repentina partenza di Rommel per conferire con il Führer furono riportate da un cinico cavallero vabbè lo sappiamo cavallero non era certo uno stinco di santo però come dire da testimone da cinico testimone da cinico osservatore dei fatti fa presente alcune cose allora compiuto da qualsiasi generale italiano avrebbe condotto cioè l'andare in Germania per conferire con Hitler era un atto che compiuto da qualsiasi generale italiano avrebbe condotto costui davanti al tribunale di guerra per abbandono di posto di fronte al nemico siccome però il maresciallo Rommel non appartiene al nostro esercito e poiché militano a suo vantaggio ovvie considerazioni di natura politica comprendo perfettamente come sarebbe vano chiedere una qualsiasi sanzione a suo carico ma ciò lo confermerà ancora una volta nella persuasione di essere arbitro di ogni suo atto e di poter e di poter disconoscere a suo talento scusate e di poter disconoscere a suo talento l'autorità e gli ordini del comando italiano insomma verso occidente di tutte le residuali e scomposte formazioni dell'asse lo scaricabarile divenne il suo logico esito visto che gli interessi e i punti di vista continuavano a divergere Berlino puntava su un rapido ripiegamento in Tunisia mentre Roma optava anche per evitare che le proprie truppe a piedi fossero incalzate dalla valanga britannica per un ripiegamento graduale in questo vortice solo ai primi di febbraio del 1943 quando la situazione era ormai disperata Bastico fu esonerato dal comando perché Bastico aveva previsto certe cose aveva previsto che da El Alamein non avremmo fatto altro che dover scappare a gambe elevate Bastico c'era arrivato Rommel no perché perché Rommel aveva l'enorme limite di non sapere nulla di strategia Bastico con tutti i suoi limiti non sarà stato un genio non sarà stato un grande militare non sarà stato un comandante leggendario o indiscutibile come il maresciallo Giovanni Messe ma Bastico era molto meno peggio di quello che si può pensare perché aveva trovato le falle nel modo di ragionare della volpe del deserto e le elencava senza pietà non si vergognò minimamente di litigare in maniera feroce e violenta con Rommel e infatti ripeto a Bastico hanno dato sempre ragione perché perché Rommel straordinario immenso fantastico tattico uno dei migliori tattici della seconda guerra mondiale e della storia dell'umanità ne capiva ne capiva di strategia quanto questa quanto una ciabatta la conoscenza dei fattori strategici e logistici da parte di Rommel era qui in una ciabatta Rommel siamo sinceri di logistica la vera arma che ti fa vincere le battaglie non ne capiva niente e ne capiva ancora meno di strategia le conoscenze di strategia e di logistica di Rommel sono riassumibili in questo oggetto che ho in mano una ciabatta in dialetto metaurense Rommel di strategica e di logistica che sono quelle che ti fanno battere il nemico e ti fanno vincere guerra e battaglie Rommel ne capiva quanto una ciabatta spaieta e i fatti sono chiari Bastico il generale Bastico dimostrò di essere molto meno peggio di quello che si pensa perché agì con decisione contrastò con tutta la forza possibile le decisioni avventate di Rommel che in seguito ammise che il suo ex superiore teorico aveva detto delle cose giuste ma le disse dopo e non le disse in pubblico se fossi stato se fossi stato come dire Bastico io molto probabilmente avrei preso e sfidato a duello Rommel perché questo si sarebbe mentato anche perché ricordiamoci i tedeschi scappando da El Alamein per raggiungere la Tunisia lo fecero sapete un po' con cosa con i nostri mezzi che ci avevano portato via e i nostri soldati a cavallo di San Francesco e chiedetevi perché a El Alamein il trionfo inglese fu così completo totale e assoluto furono più bravi gli inglesi dite quello che cazzo vi pare qualcuno dirà oi boh la superiorità numerica degli inglesi perché noi eravamo di meno perché noi eravamo meno amati perché noi perché noi perché noi eravamo poveri piccoli la domanda è una sola a chi mi fa queste considerazioni ma chi cazzo gliel'aveva ordinato al duce di dichiarare guerra all'Inghilterra il medico gli inglesi hanno risposto a una dichiarazione di guerra italiana e ci hanno malamente e pesantemente rotto il culo gliel'abbiamo fatta pagare vedi la Folgore vedi la Riete vedi le poche unità che riuscirono a tenere testa all'ottava armata pressoché inarrestabile ma 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 non potevamo certo fermare il mare mettendoci in fila insomma mettendoci di traverso in fila stringendoci con braccia e gambe per arrestare la marea questo fece la Folgore e si fecero ammazzare tutti lo sapete meglio di me tutti o quasi la cosa che mi rode sinceramente è la mancanza di rispetto di Rommel per la figura di Bastico l'uomo che più di una volta aveva aveva come dire dimostrato che Rommel sbagliava clamorosamente i suoi conti quanto si trattava di andare al di là del comodo e facile seminato della macchina della 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 tattica è Rommel non era in grado di guardare oltre la collina questo se vogliamo costò anche la seconda guerra mondiale all'asse una cosa che non viene spesso citata i gravi gravissimi feroci e spietati di verbi che c'erano tra il generale Bastico e il suo omologo tedesco Rommel Rommel aveva una sponda personale presso il Führer e poteva permettersi di parlare con il Führer Bastico per quanto accusato di fascismo non ebbe mai un rapporto particolare con Mussolini non abbandonò mai il teatro di guerra per andare a conferire con Mussolini su che cosa sganciare di bombe sulle alleate che stanno per sbarcare e che vi devo dire una tragedia quindi cari signori io se come dire vogliamo continuare la conversazione sulla figura del generale Bastico il canale è a disposizione ci sono i commenti ci sono le dichiarazioni io come sempre prendo la palla al balzo vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre vi auguro buonanotte e arrivederci al mio prossimo video ci vediamo allora grazie a tutti